Buonasera e benvenuti a incontri d'estate 2020, programma organizzato dalla trasmissione televisiva Ok Italia Parliamone, da un'idea nata in collaborazione con Asso Camerestero, l'associazione delle camere di commercio italiane nel mondo. Perché eventi d'estate 2020? Perché riteniamo che bisogna mettere in campo tutto ciò che possiamo fare per aiutare le nostre imprese ad uscire da questo momento di crisi che ricordiamo è una crisi epocale, la peggiore crisi economica che abbiamo avuto in Italia dal dopoguerra ad oggi, crisi legata ovviamente alla pandemia Covid-19. Mi accompagnerà in questo percorso, in questa chiacchierata con una serie di importanti ospiti la gius lavorista Roberta Caragnano che saluto, grazie Roberta per essere con noi. Grazie a te Massimo. E ancora oggi parleremo in particolare di turismo museale, enogastronomico e del mare e soprattutto cercheremo di lanciare delle idee per la ripartenza. Con noi ospiti questa sera abbiamo, alla mia destra abbiamo qui Roberto Galasso che è il presidente della Lega Navale Italiana sezione di Brindisi. Buonasera Galasso, benvenuto. Abbiamo Giancarlo Lanzilotti che è del direttivo di Federalbergo Brindisi. Buonasera Lanzilotti. Buonasera a voi. E ancora Anna Cinti, la presidente dell'associazione Le Colonne Arte Antica e Contemporanea. Buonasera Anna Cinti. Buonasera. Ancora con noi Angelo Guarini, direttore di Confindustria Brindisi. Buonasera. E poi abbiamo Enzo di Roma che è il presidente del consorzo albergatori di Caroviglio. Buonasera a tutti. Oggi ringraziamo anche in particolare la location, oggi ci ritroviamo presso il Riva Marina Resort di località Specchiolla a Caroviglio Brindisi che ha messo a disposizione il set dal quale stiamo registrando la nostra trasmissione. Bene, parliamo di turismo, l'abbiamo detto in premessa, l'abbiamo detto raccontando il titolo e ricordiamoci che per il nostro paese il settore turistico rappresenta un aspetto economico assolutamente non indifferente. Ha un volume di affari che si aggira in circa 232 miliardi di euro e costituisce ben il 13% del PIL del nostro paese, generando attenzione ben 4,2 milioni di occupati nel settore. Roberta Caraniano, numeri assolutamente molto importanti per questo comparto del turismo? Certo, numeri importantissimi. In realtà anche l'ENIT ci dà uno spaccato abbastanza chiaro di quello che è l'impatto dell'economia Covid e soprattutto del post-Covid. In realtà ce ne accorgiamo nelle nostre località turistiche, nonostante il Covid le realtà sono visitate. Sicuramente abbiamo molto più turisti italiani che turisti stranieri, però un elemento quindi importante e significativo è che si fa vacanza, però in questo caso non è abbandonata l'idea di vacanza, cambia il modello, cambia un po' tutto e probabilmente questa diventa un'occasione oltre che un'opportunità per ripensare il nostro sistema turistico anche in un'ottica di benessere, in un'ottica di sostenibilità. Diciamo che in questo ultimo periodo abbiamo avuto notizie di molte attività nei settori dell'agriturismo, molto la montagna, i percorsi anche dei percorsi naturalistici che sono stati elementi fondamentali e che hanno riportato alla luce quelle che sono le bellezze del nostro paese. Sentivo molti che ci raccontavano anche di percorsi che anche in bicicletta che ci fanno riguardare tutta la nostra costa, la Puglia ha una splendida costa, ricordiamo che anche qui nel Salento sino all'Euca abbiamo degli spettacoli e degli scenari che sono davvero invidiabili. Quindi cambia sicuramente il modo di fare turismo e quindi abbiamo delle regole che sono diverse, sicuramente delle regole di maggiore sicurezza perché adesso le strutture si attrezzano per dare maggiore sicurezza e in questo senso abbiamo anche una maggiore qualità dei servizi e questo a cui dovrebbe tendere il turismo. Possiamo anche dire che sicuramente ci sarà la ricerca anche di soddisfare esigenze che sono legate all'ambiente, al benessere e anche alla salute e alla sicurezza perché oggi siamo tutti quanti molto spaventati da ciò che è successo e da ciò che potrebbe ancora, secondo quanto ci raccontano quotidianamente giornali e testate televisive, ovviamente succedere nuovamente a causa dell'epidemia Covid-19. Ma soprattutto ci sarà forse la tendenza a ricercare delle attrattive di nicchia, un turismo più di nicchia piuttosto che il turismo a cui eravamo abituati, il turismo di massa. Quindi ci sarà un tipo di turismo sempre più esigente. Forse è arrivato il momento veramente di iniziare a valorizzare i nostri grandi attrattori culturali che abbiamo nel paese, che ricordiamo non sono soltanto le città d'arte, ma oggi è molto importante, i attrattori culturali sono anche i piccoli borghi, i centri storici, i piccoli paesini, la nostra tradizione culinaria, la nostra tradizione enogastronomica, anche le tradizioni, la nostra cultura è bellissimo, pensate che molta gente rimane affascinata dalle sagre, dalle sagre paesane, da quelle piccole manifestazioni che ancora raccontano dei territori, è una tradizione, è una storia che soltanto il nostro bel paese può sicuramente raccontare agli altri. Giancarlo Lanzilotti, parliamo uno dei settori anche importanti ovviamente per il turismo, lo abbiamo detto prima, settori di nicchia, settori specifici, anche il settore della nautica e della portualità, perché nelle città soprattutto di mare hanno un ruolo sicuramente fondamentale per il turismo, i porti ricordiamolo sono delle porte d'accesso, scusatemi il gioco di parole, alla città da parte di un turismo che viene dal mare. Ti chiedo quali sono le prospettive di crescita che tu vedi per un turismo alberghiero collegato alla mare e al nautica? Sei nel direttivo di Confindustria Brindisi, una città ovviamente, chiedo scusa, di Federalberghi Brindisi, l'Apsus perché aveva a fianco a me il direttore di Confindustria Brindisi, quindi voglio dire, ma oggi siamo tutti quanti insieme per cercare di lanciare un messaggio positivo. Dicevo, direttivo di Federalberghi Brindisi, città che vive ovviamente di mare, città che in questo momento ha sofferto molto la chiusura delle attività, ma che dal mare può trovare le ragioni per una ripresa. Ecco, che tipo di futuro può arrivare al settore alberghiero dal mare? Sì, dunque noi come Federalberghi siamo stati molto presenti in questo periodo, siamo stati molto vicini sia agli albergatori, sia abbiamo fatto veramente un passaggio importante fra le istituzioni e gli alberghi e poi anche i nostri dipendenti. Ci siamo battuti in questo periodo e credo che abbiamo anche raggiunto dei buoni risultati. Il nostro territorio in particolare è ovviamente molto legato a tutto quello che è riportato poi in questo manifesto di questo evento. Quindi è importante per noi il mare, è importante l'enogastronomia, è importante il discorso museale, perché è chiaro che per immaginare un turismo migliore, per immaginare un turismo più forte dopo questa crisi, un turismo che possa reggere anche meglio queste situazioni appunto di difficoltà, è importante non solo destagionalizzare, che è la parola magica che solitamente utilizziamo, ma soprattutto migliorare la qualità dell'offerta. Migliorarla vuol dire elevare proprio l'offerta con degli ingredienti migliori, degli ingredienti più ricercati, come possono essere dei musei, può essere appunto un turismo diverso e cercare anche di puntare a dei mercati nuovi, proprio perché per avere più alternative. In questo momento chiaramente le difficoltà maggiori per il mare sono state appunto causate dalla crisi internazionale, perché abbiamo un turismo soprattutto italiano, un turismo soprattutto locale, sebbene c'è da dire che comunque c'è stata una bella ripresa tra luglio e agosto. Adesso il problema sarà appunto immaginare il futuro prossimo, pieno di incertezze, dobbiamo ancora forse attendere qualche periodo per poter prendere decisioni più precise, però sicuramente come dicevi prima in partenza è fondamentale, è detto Confindustria Federal Bank, è importante essere insieme in questo momento, è importante collaborare, è importante unire le forze di tutte le associazioni, di tutti gli albergatori, non solo degli albergatori anche con la filiera delle agenzie di viaggio, perché solo insieme in questo periodo possiamo cercare delle strade nuove, delle strade che devono essere per forza nuove, perché abbiamo dei problemi nuovi e quindi dobbiamo studiare insieme quale può essere la strategia migliore. Brindisi ha sofferto tantissimo, c'è stato il blocco delle crociere per tanto tempo, poi ci sono alcune città del Brindisino che hanno sofferto di più, altre che magari stanno risalendo un po' la china, a maggior ragione bisogna integrare l'offerta proprio per collaborare fra i vari comuni dello stesso territorio e quindi poter in qualche maniera ammortizzare anche le difficoltà che si possono presentare volta per volta. Quindi nel mio lapsus iniziale nella presentazione ho creato invece le basi per creare una sinergia fra il mondo delle associazioni di rappresentanza datoriale che sicuramente sarà raccolto con grande interesse e soddisfazione anche da Confindustria. Qui continuiamo a parlare di mare, lo facciamo con chi rappresenta oggi fra le associazioni sedute oggi in questo salotto televisivo l'associazione più antica, quindi parliamo della Lega Navale Italiana che è nata, ricordiamo è stata costituita nel lontano 1897, questo è l'anno della fondazione ad opera di una serie di personaggi, di persone che si erano riunite in associazione in maniera assolutamente volontaria per diffondere soprattutto nei giovani quella che è la cultura del mare, la cultura marinaresca. Roberta tu conosci la Lega Navale e sai che tipo di attività fa? Assolutamente, la Lega Navale è presente un po' dovunque, insomma è difficile non conoscere la Lega Navale perché ha delle attività così capillari sul territorio, tra l'altro in tante occasioni sia nel mondo della collaborazione col mondo della scuola e anche quindi con il mondo delle istituzioni è centrale e fondamentale il ruolo della Lega Navale. Lo ricordiamo anche nelle varie giornate, noi conosciamo, io conosco spesso, insomma incontro il presidente quindi Galasso quando abbiamo giornate sulla valorizzazione del mare, dei giovani, della cultura del mare, sia che siano giornate nazionali e internazionali, abbiamo avuto anche occasione di confrontarci sul settore della nautica ma anche quando c'è stato il nuovo decreto che ha dato questo ruolo e maggiore impulso anche a tutte le attività delle scuole nautiche ma anche del ruolo fondamentale della Lega Navale, quindi è fondamentale ed è centrale questo ruolo anche di sensibilizzazione dei giovani, dei ragazzi e una campagna informativa che davvero è capillare sul territorio e va in parallelo con anche la Capitaneria di Porto, insomma con tutte quelle realtà che operano sul territorio ma non solo a terra ma soprattutto in mare. Presidente Galasso, qui Roberta Caraniano ha decantato il ruolo e le competenze e anche le responsabilità che ha la Lega Navale, ma in particolare quanto può essere importante il lavoro che svolgete come Lega Navale per aiutare anche il settore della nautica in generale e quindi sviluppare anche il turismo legato al mare? Allora potrebbe sembrare un paradosso perché la Lega Navale è un'associazione antica e prestigiosa, mi piace definirla così, ha quasi 130 anni di vita, però è un'associazione senza scopo di lucro, per cui le nostre attività non sono finalizzate appunto a raccogliere degli utili, però indirettamente anche le nostre attività che sono rivolte esclusivamente, quasi esclusivamente ai giovani, prevalentemente ai giovani e si sviluppano sugli sport del mare, quindi il nostro statuto che è molto bello e che risale appunto a tantissimi anni fa è finalizzato proprio al sviluppo della cultura del mare tra i giovani attraverso lo sport, poi negli anni si è aggiunta la tutela dell'ambiente marino ed altre attività magari sul sociale rivolte in particolare al mondo della disabilità, però ecco gli sport, la Lega Navale nasce proprio con questa vocazione sportiva ed in particolare con la vela ed il canottaggio. Per fare un esempio su quello che può essere uno dei risvolti positivi anche da un punto di vista turistico, noi abbiamo un gruppo sportivo canottaggio, un gruppo sportivo vela e un gruppo sportivo che si occupa di pesca, di pesca sportiva. Nel 2016, quindi pochi anni fa, abbiamo organizzato e quindi fatto, riportato a Brindisi dopo quasi 50 anni un campionato italiano di canottaggio. Siamo riusciti a portare a Brindisi circa 700 atleti e praticamente tutte le società affiliate alla federazione italiana canottaggio. Praticamente per quattro giorni abbiamo riempito tutti gli alberghi della città e della provincia e quindi alberghi significa anche ristoranti e tutto ciò che può coinvolgere la permanenza di tante persone in città. Quindi noi non l'abbiamo fatto con l'intento di sviluppare questa economia, l'abbiamo fatto perché volevamo tornare a Brindisi questo evento, questo è un campionato italiano e quindi per un interesse più che altro sportivo, però poi ci siamo resi conto di aver mosso un'economia e non eravamo preparati a questo e non l'abbiamo fatto per questo scopo, però alla fine è avvenuto proprio questo. Le associazioni che sono venute a Brindisi, hanno partecipato a questo campionato, sono rimaste entusiaste non solo della location della città perché in pratica conosciamo Brindisi e sappiamo che è una città praticamente abbracciata dal mare, dai due seni di Levante e di Ponente e noi all'interno del porto siamo riusciti a sviluppare un campo di regata regolamentare di 1500 metri e non è una cosa facile da ottenere perché molto spesso queste gare si svolgono su corsi d'acqua nei laghi e quindi lontani dalla città. Noi invece avevamo un palcoscenico naturale dove gli spettatori potevano godere della manifestazione stando comodamente in banchina e quindi seguendo anche percorrendo diciamo tutta la banchina del porto e quindi seguendo la gara proprio dal vivo a pochissimi metri di distanza. Quindi questo diciamo è uno degli esempi di come anche un'associazione come la nostra ma in particolare lo sport, gli sport del mare possono attrarre e sviluppare turismo. Il dinamismo del Presidente Galasso ha portato anche a far sì che da pochi mesi è anche stato nominato all'interno del direttivo della Lega Navale Italiana in rappresentanza delle regioni sud e quindi voglio dire forse ha contribuito a questo importante risultato ed è anche una grande responsabilità questo tipo di manifestazione. Sì certo anche tutto contribuisce a questi risultati perché questa iniziativa come tante altre come la regata internazionale Brindisi Valona che abbiamo modificato nella sua formula originaria quindi prevedendo l'arrivo e la permanenza a Valona quindi l'avere instaurato questi contatti con un paese prontaliero è molto vicino a noi con il quale diciamo siamo riusciti a sviluppare anche rapporti di amicizia e di grande collaborazione e quindi questo come tutte le attività che abbiamo incrementato e che vorrei ricordare attività sportive che la Lega Navale pratica per tutto l'anno quindi anche l'inverno all'interno del nostro porto perché la scuola vela si sviluppa svolge la propria attività per tutto l'anno all'interno del porto così come la scuola di canottaggio e gli allenamenti si svolgono all'interno del porto. Diciamo una cosa presidente è molto importante anche le attività che voi fate anche per soggetti chiamiamoli svantaggiati tipo voi garantiti anche diversamente abili di poter beneficiare dell'andare per mare quale momento anche di libertà. Sì noi stiamo cercando in questi ultimi anni di avvicinare veramente tutti a questo mondo quindi anche i disabili per far questo ci siamo anche dotati di imbarcazioni e dedicate proprio realizzate costruite proprio per i disabili ultimamente abbiamo comprato una deriva vela che si chiama ansa 303 che proprio una barca è una deriva vela di classe paralimpica di classe paralimpica cioè con questa imbarcazione un atleta paralimpico può andare alle olimpiadi e ce ne siamo dotati con con grande entusiasmo e stiamo cercando di accogliere il maggior numero possibile di di atleti molto bene beh oltre al mare all'importanza del mare un altro aspetto molto importante per turismo sicuramente è quello legato all'arte e alla cultura roberta graniano che ruolo può avere il turismo museale secondo te un ruolo importante ma sicuramente centrale perché davvero un volano per lo sviluppo il presidente galasso parlava di sport città e sport è un connubio che a brindisi accomuna tante realtà sappiamo insomma che a brindisi abbiamo anche il campionato mondiale della motonautica che è un'altra grande quindi realtà con anna il è molto più facile a parlare di connubi tra cose che possono sembrare distanti perché la sua apertura mentale sempre molto diciamo colpisce tantissimo noi abbiamo ragionato per diverso tempo sulla museo del museo navigante un'esperienza che c'è in italia e poi sull'idea di portare avanti magari di valorizzare dei reperti del museo del mare che c'è nella sua insomma ci sono nella sua quindi struttura e quindi diciamo che questo rapporto è un rapporto quindi fondamentale purtroppo il covid ha impattato in maniera significativa sul turismo i dati di federculture del 2020 quindi di marzo 2020 quindi all'inizio del lockdown ci dicevano che il crollo del fatturato dei musei è stato varia dal 20 al 70 per cento questa è una situazione abbastanza particolare se consideriamo che il dato precedente del 2019 invece era un dato molto incoraggiante perché gli italiani ritornavano nei musei con dei picchi di in alcune regioni anche del 70 per cento quindi questo è sicuramente quindi un elemento quindi importante è un elemento volano per la competitività del paese dovremmo mettere in campo una serie quindi di misure sicuramente credo che anna probabilmente potrà avere anche delle novità non so dell'idea importante che io volevo chiedere ad anna perché in un territorio importante come quello del brindisino il turismo il famoso turismo di prossimità di cui ancora molti non sanno bene cosa sia che ruolo può avere per aiutarci anche a recuperare una certa competitività turistica che purtroppo ci pone in posizioni molto inferiori rispetto ad altri paesi sì ovviamente bisogna contestualizzare nel senso che l'associazione si occupa principalmente di valorizzazione del patrimonio archeologico storico culturale e opera sia brindisi che a carovigno sempre in provincia di brindisi per quanto riguarda la città di brindisi l'associazione gestisce un museo che descriveva poc'anzi roberta invece per quanto riguarda carovigno gestiamo il castello dentice di frasso per quanto riguarda l'esperienza post covid sicuramente ha cambiato eh sia l'approccio la la modalità di fruizione di questi siti e ovviamente ci siamo ritrovati un nuovo pubblico infatti se eh precedentemente prima del covid in questi siti queste strutture avevamo ehm ospitavano il turismo internazionale ospiti provenienti anche dall'estero eh dopo il covid ovviamente abbiamo avuto il cosiddetto turismo di prossimità eh soprattutto per quanto riguarda brindisi la città di brindisi infatti ha avuto eh molti molti visitatori provenienti eh dalle province limitrofe abbiamo avuto tantissime persone provenienti dalla città di eh di Bari dalla città di Taranto quindi abbiamo visto anche un eh maggiore incremento di visitatori da queste zone limitrofe che invece prima eh non eh venivano a visitare il i luoghi presenti nella città di brindisi per quanto riguarda invece la città di Carovigno qualcosa ehm non è è diverso nel senso che eh il castello ovviamente ha anche un'importanza maggiore affascina di più il visitatore eh ma soprattutto mi permetto anche di ringraziare il presente presidente del consorzio albergatori perché eh sicuramente la riuscita anche della del del successo del castello è dovuta anche grazie al loro eh lavoro perché sono tantissimi visitatori che provengono dalle loro strutture e vi è nata questa sinergia noi abbiamo avuto l'occasione eh di operare insieme in in BIT eh abbiamo dialogato tantissimo e quindi è importante per avere il cosiddetto turismo di prossimità ma non solo perché il turismo di prossimità poi eh appunto è una situazione emergenziale viviamo insomma questo questo periodo un po' particolare e abbiamo è giusto che ci sia anche il turismo di prossimità ma eh quello che dobbiamo puntare è quello di eh tentare di eh coinvolgere quanto è più possibile eh turisti dall'estero. Però io ho visto mentre parlavamo di turismo di prossimità c'era l'anzilotti che un pochino si è agitato perché voleva fare una domanda che adesso faccio mia ma questo turismo di prossimità è un turismo mordi e fuggi o è un turismo che chiede anche agli alberghi di poter alloggiare c'è un turismo che da Bari o da Taranto piuttosto che da Lecce viene nel territorio brindisino per passare la giornata e un turismo che passa una due giornate e quindi l'anzilotti tornerà più contento a casa penso dopo questa notizia. Sì appunto per questo dicevo non possiamo vivere di turismo di prossimità perché ovviamente poi quando si parla di cultura noi dobbiamo seguire eh due direzioni ossia quella della della messa in valore dal punto di vista economica del sito ma anche quello della del valore sociale educativo formativo quindi ovviamente eh come istituzione culturale dobbiamo seguire queste due direzioni quindi per quanto riguarda dal mio punto di vista non posso parlare solo di economia ma ovviamente devo eh anche parlare della conservazione della tutela del del senso eh identitario del del sito eh però ovviamente il turismo di prossimità quindi per quanto riguarda il mio punto di vista sicuramente importante ma non da livello economico ovviamente la ricaduta sul territorio poi è limitato nel senso nel senso che magari si ferma a cenare si ferma eh però chiaramente non non si ferma a dormire quindi quello che occorre fare quindi una maggiore sinergia tra i diversi operatori del settore ma non solo perché spesso eh si pensa che la cultura i musei i castelli siano una una realtà a sé invece no eh bisogna dialogare bisogna sempre di più fare in modo eh di rendere i siti accessibili e quando parlo di accessibilità non intendo di aprire soltanto le porte perché è importante che eh si dia anche la possibilità di visitare quei luoghi perché ad esempio in Puglia noi abbiamo dei siti nazionali che sono invidiati da tantissime eh altre parti eh del mondo però eh è difficile raggiungerli e quindi questa è una situazione che non è possibile abbiamo ad esempio a pochi chilometri il Museo Nazionale di Egnazia ma risulta impossibile a volte eh poterlo visitare perché non ci sono i mezzi di trasporto quindi questa cosa è importante far dialogare è importante la mobilità e il trasporto è importante che eh ci sia un confronto con le strutture recettive alberghiere proprio perché eh soltanto insieme l'abbiamo detto poc'anzi lo diceva anche il appunto il eh federalberghi il eh quindi è importante che ci sia un dialogo per poter raggiungere l'obiettivo eh un dialogo ovviamente spesso si si parla di rete si parla di sistema ma non devono essere soltanto parole ma fatti e l'idea di questo format va proprio in quella direzione infatti come vedete abbiamo messo insieme più soggetti che rappresentano una parte positiva dell'economia del paese e quindi tutti insieme condividendo delle scelte possono aiutare il territorio ad andare avanti. Direttore Guarini bene la Puglia è una regione che negli ultimi anni lo vediamo sta veramente eh scoprendo una propria vocazione turistica d'altronde i dati di quest'anno dimostrano come pur nella crisi del settore turistico la Puglia abbia registrato il tutto esaurito. Addirittura è difficilissimo trovare una camera d'albergo perché c'è stato il pienone. Pochi giorni fa parlavo con il sindaco di Otranto che mi ha addirittura detto che nel mese di luglio ha avuto prestazioni notevolmente superiori all'anno pre-covid quindi al 2019. Quindi c'è stata veramente la scoperta del nostro paese scoperta soprattutto dei nostri connazionali. Questa è una cosa molto importante perché si inizia a capire che l'Italia è bella che forse c'è un mare più bello ci sono dei patrimoni veramente parlavamo prima degli attrattori che sono ovviamente tantissimi da scoprire li abbiamo a portata di mano. Roberta qual è lo scenario generale? Lo scenario è di una Puglia che cresce sicuramente nel settore del turismo è cresciuta la vocazione turistica negli ultimi anni però a questo punto da quello che emerge è necessario fare un salto in avanti fare un investimento maggiore sulla qualità sui servizi anche sulle infrastrutture a questo punto per rendere tutti i siti o tutte le realtà quindi culturali facilmente raggiungibili. La rete, la sinergia, ne parlava Anna Cinti però ne hanno parlato un po' tutti, sono questi temi quindi fondamentali. Creare quindi dei valorizzare le eccellenze probabilmente perché ne abbiamo tante e dobbiamo scoprire nella porta accanto quello che è l'aspetto fondamentale ma soprattutto quel bene da valorizzare perché molto spesso ce ne accorgiamo nel turismo di prossimità e valorizzarlo. Essere anche noi dei soggetti propulsori e vendere in questo senso bene anche la nostra Puglia, vendere le nostre idee e sicuramente ecco però accanto a questo fare degli investimenti perché gli investimenti sono l'altra parola d'ordine fondamentale. Si valorizzare, si fare un salto in avanti di qualità ma serve un investimento e l'investimento riguarda tanto l'investimento nazionale dei governi, delle regioni, delle istituzioni quanto il ruolo delle associazioni che devono rispondere attivamente sui territori. Parliamo di associazioni. Guarini, per Confindustria quale iniziativa bisognerebbe mettere in campo per poter garantire appunto una crescita dell'offerta qualitativa dei servizi ovviamente al campo turistico? Che cosa bisognerebbe fare a livello centrale? E voi stessi come Confindustria che tipo di suggerimenti portate avanti al governo? È una bella domanda e io vorrei rispondere collegandomi anche a quanto stava dicendo prima Roberta, mi permetto di chiamarla così, utilizzando come dire delle parole chiave. Lei ha usato una prima parola chiave che è valorizzazione. Mentre parlava mi veniva in mente un piccolissimo e velocissimo aneddoto, lo voglio raccontare perché dà proprio un'idea di come c'è un approccio diverso. C'è stato qualche anno fa un periodo in cui sono andato spesso a Monreal per via di un accordo fra i distretti aeronautici di Monreal con quello nostro pugliese e in questa andata ogni volta c'era qualcuno che nel tempo libero, perché ovviamente non era 24 ore su 24 l'impegno, mi diceva di andare a visitare la cattedrale di Monreal e la prima volta che sono andato non è stato possibile. La terza volta era talmente il segnale di andare a visitare la cattedrale, ho preso da solo un taxi e sono andato alla cattedrale di Monreal. Per entrare ho pagato 5 dollari, quando sono entrato l'unica cosa che mi ha colpito è che c'era un tetto ligneo e basta. Sostanzialmente mi sono fatto un ragionamento che a Roma ci saranno forse 300 chiese superiore alla cattedrale di Monreal, però intanto i canadesi o i cittadini di Monreal ogni volta che mi vedevano dice vai a visitare la cattedrale di Monreal, quindi c'è quel concetto di valorizzazione molto molto importante. Un'altra parola chiave è attenzione, sì è vero c'è questo sviluppo turistico, però la carenza di infrastrutture e direi anche in alcuni casi la disattenzione alle infrastrutture è molto molto viva. Altro piccolo esempio, sono stato qualche anno fa non per turismo ma per un invito ragione di lavoro, c'era un seminario dell'associazione dei circoli ricreativi aziendali e mi hanno invitato e ospitato a Riccione in un periodo di mezza stagione, poteva essere credo gli inizi di giugno. E lì ho scoperto dal mio albergo che si affacciava sul mare che vedevo delle macchine che scendevano giù parallelamente alla riva del mare, quindi sostanzialmente ho scoperto che per tutti i chilometri della spiaggia di Riccione c'è un parcheggio sotterraneo adiacente alla spiaggia e questo è un film di fantascienza, però voglio dire se sono posto il problema del parcheggio, parliamo di Otranto, parliamo di Gallipoli, parliamo di Santa Maria di Leuca, ma il problema dei parcheggi è talmente drastico che io turista ci vado un anno, mi piace moltissimo, ma l'anno successivo non ci vado perché se vado con la macchina a vivere la scomodità di impazzire per trovare un parcheggio non lo faccio, quindi anche la questione delle infrastrutture e i collegamenti, ovviamente come diceva prima Anna Cinti, sono estremamente importanti, anche la rapidità dei collegamenti, non ci posso mettere se io atterro a Brindisi e vengo da Londra, più tempo per andare a Santa Maria di Leuca rispetto a quello che ci ho messo nel volo Londra a Brindisi, quindi l'altra parola chiave è questa. Poi un'altra parola chiave che vorrei portare all'attenzione è quella di marketing, marketing territoriale, significa anche questo, promuovere sì il territorio nelle ragioni di sua attrattività, ma anche entrare per un attimo nei bisogni dell'utente, del cliente, di chi viene. E poi anche un discorso si diceva di organizzare meglio la gestione dell'offerta e quindi anche di management. Ho notato con molto piacere che è stato attivato un bando, per esempio credo che sarà a Gallipoli, di un ITS di management turistico e questo mi fa piacere che hanno attivato una iniziativa del genere. Noi che cosa stiamo cercando di fare come Confindustria? abbiamo una sezione turismo molto attiva che si muove, che comprende anche al suo interno sia le strutture più famose della nostra provincia, quella soprattutto al nord della provincia, Torreganne, Fasano eccetera, ma anche al sud della provincia. Però ci siamo resi conto, e qui vengo un'altra parola chiave, sistema, che effettivamente bisogna organizzarsi meglio e fare sistema. Anche utilizzando le moderne tecnologie, perché questa lo sappiamo tutti che è l'epoca della digitalizzazione, del nuovo scenario internet web. Quindi stiamo lavorando per una piattaforma che comprenda al suo interno un po' diciamo anche con le tecnologie più moderne, parliamo di realtà virtuale, parliamo di museo virtuale e quindi con gli specialisti di questa piattaforma sta collaborando un'altra azienda di ricerca associata che è il CETMA, che comprende al suo interno ovviamente anche una partecipazione molto importante pubblica dell'Enea, in modo tale da costruire questa piattaforma come un contenitore che riguardi tutto l'apparato turistico della nostra provincia, a 360 gradi. Sono, come devo dire, iniziative che presuppongono la cooperazione fra tutti quanti. Questo è fondamentale, ma d'altro modo è quello che dicevi prima, tu hai detto una cosa importante, la parola d'ordine deve essere fare sistema, fare rete. C'è chi ha realizzato realmente, ha trasformato questa parola d'ordine in concretezza e qui pensiamo abbiamo proprio come altro ospite Enzo di Roma che è alla guida del consorzio albergatore di Carovino, voi siete l'esempio lampante di come dalle parole si passa ai fatti, permettetemi questo aspetto, perché è poco più di un anno che vi siete costituiti, ma fondamentalmente perché avete capito che messi insieme riuscite veramente a fare massa critica e a portare avanti un discorso utile per lo sviluppo di un territorio, che è il territorio in particolare specifico di Carovigno, ma avete anche l'ambizioso progetto di essere attrattore anche per tutto il turismo della regione, ma soprattutto siete mossi dalla volontà di garantire una destagionalizzazione del turismo, perché qui in Puglia ci sono tutta una serie di aspetti molto importanti, il principale è il clima, qui in Puglia c'è un clima che permette realmente di poter operare, offrire servizi di qualità durante un arco temporale che può andare ben oltre i due o tre mesi canonici estivi. Bene, questo è lo spirito che vi ha veramente spinto come consorzio, avete dimostrato veramente una grandissima vivacità in questo. Roberta, come sono organizzati come consorzio loro? L'obiettivo fondamentale del consorzio è quello di mettere appunto in rete, insieme, di offrire ai clienti un pacchetto di servizi e di strumenti che possano poi portare a dei pacchetti turistici che siano davvero innovativi ma che vadano oltre la stagionalità e quindi che puntino alla destagionalizzazione. Un'impresa davvero ardua è stata quella del consorzio, anche perché in realtà nasceva con una realtà di circa 20 aziende e oggi sono 34, quindi in realtà sta crescendo e quindi cresce l'interesse. Quindi credo che sia un elemento fondamentale e importante e la loro esperienza magari può essere replicata sul territorio altrove. Beh, questo è molto importante, però Enzo Di Romano, la domanda che ti faccio è questa. Come consorzio, voi siete partiti appunto, Roberta diceva, erano poche più di 20 unità questi albergatori che si sono riuniti con una visione comune, quindi avete ciclicamente degli incontri nei quali ognuno rappresenta quella che è una propria idea di pari turismo. Quindi il primo aspetto secondo me veramente importante è quello di essere riusciti a superare l'invidia verso il collega operatore alberghiero piuttosto che turistico e capire che invece avendo una visione comune il beneficio che arriva all'albergatore arriva sicuramente anche all'albergatore, perché qua all'altro, perché quando cresce l'interesse verso un determinato territorio, ovviamente c'è beneficio per tutti. Lo vediamo anche nelle strade, basta che in una strada ci sia un ristorante di successo, diventa attrattivo, magari quel ristorante è pieno, allora è molto utile aprire un altro ristorante perché nella prima fase potrà godere di quelli avventori che non hanno trovato posto in quella località. E' un po' questo un concetto, l'ho banalizzato, ma è quello un concetto molto importante. Enzo ti chiedo, come sarà il turismo dopo il Covid-19? Perché sicuramente cambierà? Sì, cambierà, cambierà soprattutto nel... dobbiamo ripartire, ripartire. E poi un po' il tema che abbiamo della nostra... dobbiamo partire da questo. In realtà il consorzio nasce per la volontà di 10 albergatori, poi diventano 20 e adesso sono 30 su 34, su un territorio dove sviluppiamo... Quindi 30 su 34 parliamo della quasi totalità. Sì. Parliamo in questo momento di 1300 camere, parliamo di quasi 6.000 posti letto, parliamo di un consorzio che oggi e domani, anzi sicuramente domani, vuole diventare distretto. Un distretto, il distretto del turismo. no? Qual è la formula? La formula in questo momento ce l'abbiamo sotto gli occhi e sotto gli occhi di tutti. I mesi di luglio, agosto e probabilmente la prima, seconda settimana di settembre sono dei mesi facilmente vendibili. Noi puntiamo a le ali di stagione. Questa famosa destagionalizzazione noi l'abbiamo messa in atto qualche anno fa, prima individualmente poi in maniera consortile e in questo momento, se non ci fosse stato il Covid, in questo momento in realtà le strutture dovevano essere aperte dal 6 di marzo fino a metà novembre. Oggi se non succede nulla, se non succede nulla, se qualcuno non ci mette nelle condizioni di chiudere con numeri e dati che sicuramente sono importanti ma in realtà non devono toccare il turismo da questo punto di vista, chiuderemo le nostre strutture il 14 di novembre. Quindi il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto. Lo abbiamo raggiunto l'anno scorso con la prima settimana di novembre, quest'anno era la seconda di novembre e c'è stato quello che c'è stato sotto gli occhi di tutti. Ripartire significa naturalmente avere un turismo sostenibile e naturalistico. I cammini dei borghi minori, soprattutto i borghi minori, perché cosa succede? che naturalmente noi conosciamo in questo momento nel nostro territorio, conosciamo studi, tutti conoscono studi, ma nessuno conosce molto bene Carovigno, nessuno conosce bene Ceglie, nessuno conosce bene San Vito dei Normanni, quindi quelli sono i borghi minori e su quello che naturalmente noi andiamo, vorremmo sviluppare il nostro territorio. L'altra cosa importante che stiamo mettendo in atto con tutti i miei consorziati è soprattutto la sicurezza. Questa è la parola chiave in questo momento, perché se non c'è sicurezza, non dobbiamo trasmettere sicurezza al nostro ospite. Oggi, ma anche il futuro, perché questa cosa, questo è un retaggio che ci porteremo sicuramente per i prossimi due o tre anni. Forse non porteremo le mascherine, forse non saremo, però le nostre distanze, le nostre preoccupazioni ce le avremo comunque. Quindi la ripartenza deve essere soprattutto dalla bassa stagione, deve essere dalle ali di stagione, deve essere dai percorsi naturalistici, dai percorsi museali, perché è quello che ci interessa di più, perché l'ospite che arriva e arriva soprattutto dal centro Europa ha delle curiosità diverse di quello che è il nostro ospite che arriva dai paesi limitrofi. Quindi ha delle curiosità diverse e queste curiosità diverse si trasformano in quelle che sono i percorsi della cultura, della natura, i percorsi sostenibili. Questo è quello che dobbiamo fare, questo è il nostro obiettivo. Beh, io penso che questo sia un obiettivo veramente importante perché è quello che dovrebbe essere un obiettivo un pochino di tutti, ma dalle tue parole mi viene da pensare che finalmente forse si è raggiunta l'idea di mettere da parte quella convinzione che l'Italia dal momento che è bella si possa vendere da sola e iniziare a ragionare veramente in maniera imprenditoriale cercando di trovare sempre degli spunti che possano essere attrattivi anche per promuovere il nostro paese. Quindi forse è una domanda che faccio a tutti partendo anche da Grasso. È forse arrivato il momento di avere un approccio realmente imprenditoriale al turismo? Quindi abbandonare questa idea perché vediamo altri paesi, anche i nostri cugini francesi, che di un nulla riescono a creare un attrattore culturale pazzesco. Noi abbiamo delle bellezze che, lo dicevamo prima, non è solo arte e cultura ma è tutto dal piccolo borgo alla tradizione, alla sagra paesana che è qualcosa veramente di importante. I francesi come altri popoli riescono a costruire un qualcosa di veramente importante. Ecco, il buon Guarini ci diceva è andato in Canada, vuol dire è rimasto, tanto male che venivi in questa splendida cornice dove siamo qui, forse anche più bella della cattedrale, io non l'ho vista, però mi affido a quello che tu hai raccontato. Bene, è il momento di avere, Grasso, un approccio diverso, un approccio imprenditoriale perché il turismo possa veramente essere leva di sviluppo per il paese? Sicuramente sì, anche se rappresento un'associazione come dicevo prima, che è la Lega Navale, che non ha scopo di lucro, però sono un cittadino di Brindisi, amo la mia città e sono un armatore e quindi anche un diportista, per cui vivo il mare anche da un altro punto di vista. Da armatore e da diportista, una cosa ho capito negli anni, anche navigando soprattutto nelle acque della Grecia, perché la Grecia al diportista offre molto di più di quello che offre il basso adriatico. E costa anche molto di meno? E costava molto di meno, adesso diciamo che come prezzi, da quando la Grecia è entrata nella comunità economica europea, diciamo che i prezzi stanno un po' allineando, per cui anche loro stanno cominciando a farsi pagare l'ormeggio in tutti i siti, in tutti i porticcioli. Quindi non è tanto questo che fa la differenza ormai con la Grecia, ma sono le bellezze naturalistiche, le centinaia di isole, i luoghi protetti, il mare calmo quasi sempre, quindi andare in Grecia, navigare nelle isole greche con la propria imbarcazione è una garanzia, è una garanzia di non veder sprecata quella settimana, quei 15 giorni di vacanze. Viceversa, da noi non è così, cioè molto spesso c'è il mare agitato, c'è molto vento, il maestrale, quindi però ecco lo sforzo che va fatto qual è? Quello di cercare di far incontrare la domanda con l'offerta. Allora non è detto che il Basso Adriatico o la città di Brindisi comunque non possa aprirsi al diportista. Io ho un'idea che seguo ormai da qualche anno, mi è capitato, racconto questo piccolo episodio anch'io, nell'occasione di una delle assemblee generali della Lega Navale alle quali partecipano tutti i presidenti d'Italia, siamo 252 sezioni in Italia, tutti i presidenti che vogliono intervenire fanno il loro intervento, raccontano le loro esperienze, molti di questi raccontavano intanto che di non avere una base nautica come abbiamo noi a Brindisi, cioè ci sono, può sembrare strano ma esistono sezioni della Lega Navale Italiana che non vivono il mare, cioè in città dove il mare non c'è, la sezione che ha il maggior numero di soci è la sezione di Milano. Difficile a crederci ma è vero. Difficile a crederci ma è così, loro fanno tantissime cose, organizzano corsi teorici d'inverno in aula, fanno corsi per il conseguimento della patente nautica, poi nel periodo estivo raccolgono i ragazzi, li mettono sui pullman e li portano in Liguria per vedere finalmente il mare. Allora io pensando a questo ho detto non è possibile che intanto c'è da fare una considerazione, cioè capire quello che invece noi abbiamo e valutarlo e renderci conto finalmente di quello che abbiamo, cioè avere la possibilità di andare per mare per tutto l'anno, io la barca in acqua, la Lega Navale a Brindisi, io esco quasi tutti i fine settimana, anche d'inverno. E' una cosa che, cioè quando io la racconto ai miei colleghi velisti in particolare del nord Italia, voi siete fortunatissimi, è una cosa che non apprezzo, loro invece fanno il rimessaggio invernale, mettono la barca a terra, la coprono con i cellophane e la riscoprono poi a maggio. Gialasso, raccontiamo a chi ci ascolta che avere una barca diventa quasi un amante, ecco voglio dire. Sì, infatti bisognerebbe goderne un po' di più, non solo nei mesi estivi di questa amante, noi lo facciamo, però ecco l'idea che è scaturita in me quando ho sentito raccontare queste cose da parte dei miei colleghi che appunto sono presidenti di sezioni che non hanno una base nautica e che non vivono sul mare. Noi abbiamo a Brindisi una risorsa che da tanti anni si cerca, a cui si cerca di dare una destinazione d'uso compatibile con la città, con quello che è, perché parlo del castello Alfonsino, del nostro forte a mare. Forte a mare che ormai si tenta di far rivivere da tantissimi anni e non ci siamo ancora riusciti. Fra pochi giorni verrà completato e ultimato un intervento di ristrutturazione e io spero che finalmente questa volta si riesca a far rivivere e a dare una giusta e idonea destinazione d'uso a questo castello che è bellissimo, sorge sull'isola di Sant'Andrea, all'interno del porto di Brindisi, tra il porto medio e il porto esterno, di fronte a uno specchio d'acqua che si chiama Stadio del Vento, dove la Capitanere di Porto autorizza l'attività sportiva di vela e di canottaggio. Quindi io immagino che questo castello possa diventare la base nautica di tutte le sezioni della Lega Navale che non hanno una base nautica. Questo è un progetto molto ambizioso e molto bello anche. Sì, io lo vedo sotto due punti di vista. Quello di Brindisino che vorrebbe far rivivere pienamente un castello così importante come quello Alfonsino e poi come sportivo perché potrebbe essere la sede non solo della Lega Navale o delle sezioni della Lega Navale, come dicevo prima, a livello nazionale, cioè un centro nautico nazionale, ma anche un contenitore di tutti gli sport del mare, ma anche di altre associazioni, affiliate le federazioni del CONI, potrebbe diventare un centro CONI di preparazione per gli atleti che devono andare a fare le Olimpiadi per esempio, come accade in Sardegna. Cioè le potenzialità ci sono e quindi quando dicevo bisogna mettere assieme e far incontrare la domanda con l'offerta, bisogna andare a cercare e a mettere assieme quelle che sono le potenzialità che abbiamo con quella che è la domanda, perché la domanda c'è in questa direzione, cioè intorno agli sport del mare. Immaginiamo le località sciistiche del settentrione. Si va a sciare a fare questa attività sportiva in pieno inverno anche con 10-20 gradi sotto zero. Allora noi pratichiamo la vela anche d'inverno, come dicevo prima. E quindi è possibile far diventare la città di Brindisi, che ha tutti i collegamenti a un porto, a un aeroporto, è collegata benissimo, farla diventare un polo attrattivo, sportivo, degli sport del mare, dove chiunque può venire in qualsiasi stagione a praticare gli sport del mare. Molto bene, seguiremo con attenzione questo tipo di progetto perché penso che sia importante per lo sviluppo anche del territorio. Direttore Guarini, siamo maturi per poter avere un approccio diverso e buttarci alle spalle il tanto l'Italia si vende da sola? Speriamo. Lo spero, ma più che altro è una necessità, perché mentre stava parlando mi veniva in mente una, purtroppo, mia considerazione, quasi una battutaccia, perché fino al passato del Castello lo consiglio è stata questa filiera, restauro, degrado, saccheggio. Restauro, degrado, saccheggio. Dico bene? Forse perché non c'era una destinazione d'uso. Per tanti anni. E questo è stato veramente un fatto scellerato. Potrei raccontare anche un aneddoto, ma così velocemente lo dico, un bel po' di anni fa mi capitò di conoscere seduta al Barbetti, addirittura una signora che era della famiglia Mercedes, della casa automobili, che era interessatissima a capire cos'era, glielo feci visitare velocemente addirittura e voleva anche incontrare le autorità a distanza di qualche tempo perché mi chiese perfino di avere una mappa del Castello. Non è stato possibile incontrarla perché la risposta era ma tanto che la incontriamo a fare, poi lì ci sono le belle arti, non si potrà mai fare nulla. Quindi questa rassegnazione deve essere assolutamente superata. Noi siamo come quelli che hanno ereditato una ricchezza enorme e non la sfrutto. Parlo di Brindisi ma parlo poi in assoluto come sistema paese. È chiaro che il turismo a 360 gradi in tutte le sue sfaccettature, si è parlato dalla parte paesaggistica a quella culturale, a quella enogastronomica e così via. È tutto un immenso capitale che va messo a valore e ne abbiamo non soltanto il dovere di farlo ma la necessità perché è una delle ipotesi, delle possibilità concrete per cui il paese possa riprendersi. Altrimenti vedo qualche difficoltà. Lanzilotti stessa domanda, siamo pronti? Prontissimi. Le rispondo in doppia veste ovviamente, come Federalberg e come imprenditore. Come imprenditore dobbiamo essere pronti, siamo in pieno nell'età, nella fase in cui siamo pieni di carica, siamo motivati, siamo vivaci, quindi non possiamo non pensare di essere pronti, se non pensiamo di esserlo dobbiamo prepararci affinché possiamo essere in breve tempo. Il discorso Covid può averci preso un attimo in contropiede, però sicuramente stiamo già studiando, stiamo già analizzando come reagire e come superare questa fase. Come imprenditore dico, infatti ti dico, che io e anche molti miei colleghi siamo già lì dietro le banche a capire come possono aiutarci per fare nuovi investimenti. Ne parlava prima appunto anche la signora, diciamo importante il discorso degli investimenti, perché senza l'investimento non c'è ovviamente un progresso. Come è possibile formare meglio il personale, perché è un altro elemento fondamentale per strutturare meglio l'impresa turistica. Parlavate appunto di imprenditoria turistica, l'investimento da un lato, l'imprenditore dall'altro, ci deve essere una formazione migliore dei dipendenti. Se non c'è una formazione che si chiude appunto, che chiude un po' il cerchio, non abbiamo, vivremo sempre in maniera abbastanza occasionale. Quindi cerchiamo come imprenditori appunto di prepararci meglio da un lato e dall'altro, sia dal lato degli investimenti, sia dal lato appunto dei dipendenti per prepararli meglio a tutto quello che può chiedere poi il nostro settore. Come federalberghi invece vorrei dire che ovviamente c'è sempre un po' più la vena politica dell'argomento e quindi bene sarebbe anche avere un contributo che ci aiuti in maniera proprio, più che soldi ci servirebbe proprio una migliore organizzazione di tutta la filiera. Spesso troppa burocrazia, l'abbiamo notato in questi mesi dove per far passare un euro da una parte all'altra bisognava passare dall'Inps, dalle banche, da troppi passaggi e quindi migliorare questi passaggi, migliorare l'organizzazione della macchina burocratica. Ovviamente sarebbe graditissimo se quel famoso eco bonus si trasformasse anche per gli alberghi, questo vorrebbe dire per noi e credo che il nostro direttore sarebbe subito favorevole a questo con tutto il consorzio, vedremo una miriade di investimenti immediati, sarebbe opportuno anziché studiare 3.000 ammortizzatori che creano spesso anche passività, creano anche insomma un po' di passività ai nostri dipendenti, invece trasformarli in incentivi all'assunzione. Sarei super favorevole ad esempio prendere un aiuto appunto a sfruttare un eco bonus, dall'altro lato a tenere la maggior parte dei dipendenti assunti anche per l'inverno, magari grazie a qualche, invece di dare l'ammortizzatore, aiutarci a tenere gli assunti, sarebbe sempre meglio ovviamente per un dipendente prendere 1.200, 1.300, 1.400 euro al mese piuttosto che 600 euro per stare a casa, dall'altro lato l'impresa avrebbe l'utilità di farli rifruttare, di farli lavorare, di renderli attivi e non li sultivano come siamo adesso noi. Roberta, qui si parlava dei lavoratori anche, tu sei una gius lavorista, ecco il mondo del lavoro, parezziamo i sindacati, saranno pronti anche loro ad accettare questa sfida secondo te? Beh, penso di sì, anzi vedo che sono già pronti, sono tante le iniziative che stanno portando, stanno mettendo in campo, sono stati tra i primi a volere anche subito dopo la questione del Covid, dei tavoli, dei protocolli quindi di intesa perché questo potesse continuare a rafforzare il rapporto tra impresa e lavoratore nel rispetto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. E' importante ecco la proposta che arriva da Fiori Alberghi perché questa è anche diciamo un input a quello che può essere l'intervento del governo, interventi che vanno oltre quelle che le misure messe in campo e che possono essere propositivi, abbiamo il decreto agosto che è entrato quindi in vigore da pochi giorni che attraverserà una lunga fase quindi di conversione, quindi queste sono tutte proposte che sicuramente possono essere messe in campo, tutti gli stakeholder sono attivi quindi su questo. Credo che anche i sindacati abbiano tutte le, da parte dei sindacati ci sia molta disponibilità su questo. Un passaggio importante è come cambia il mercato del lavoro, questo è vero, è verissimo. Oggi abbiamo parlato di sport, parlato di cultura, è importante lavorare anche sui profili professionali, questo sarà forse anche un ulteriore quindi elemento che potrà creare una vera e propria trasformazione oppure ci porterà a guardare nel post covid in maniera diversa perché cambia il modo di fare turismo ma cambiano probabilmente anche le esigenze delle imprese ed è necessario lavorare sui profili professionali. Ritornando al mare, molto bella l'idea del presidente quindi Galasso e magari questa potrebbe diventare anche un'occasione per formare anche dei giovani talenti non solo negli sport e noi ricordiamo che qui in Puglia abbiamo nel 2026 le Olimpiadi della città di Taranto quindi questo è già un traguardo che ci vedrà tutti insomma in prima linea ma sicuramente in questo senso potremo anche quindi pensare a profili professionali specifici del settore della diportistica. Molto spesso non si riescono a trovare nel settore del diporto delle figure professionali specializzate nella gestione dei marina ad esempio che hanno delle esigenze diverse molto spesso le prendiamo dall'estero così come quindi altre quindi realtà anche tutto quello che appartiene all'aspetto quindi culinario pugliese o comunque quindi dell'Italia che potrebbe tranquillamente essere avere una veste diversa e trovare delle nuove vie anche all'interno quindi della diportistica. Assolutamente è importante il ruolo della formazione e di elevare quelle che vengono chiamate oramai le skill perché ci piace usare dei termini stranieri ma sono le competenze dei lavoratori. Siamo veramente in chiusura però io voglio fare due battute ancora sia con Anna Cinti che con Enzo di Roma proprio sullo stesso problema. Cosa serve Anna Cinti veramente oggi per poter buttare alle spalle ecco tanto ci si vende da soli? Sì allora io innanzitutto volevo dire tre cose importanti avendo sentito anche qui i miei compagni relatori. Allora volevo dire per quanto riguarda l'economia ovviamente io rappresento il terzo settore però anche nell'ambito culturale sono sempre più i casi in cui nascono le imprese culturali quindi sempre più anche i beni culturali vengono dati in concessione ai privati perché i comuni le regioni hanno capito che è importante puntare sulla valorizzazione dei siti puntare sui privati e a tal proposito si parlava del castello Alfonsino sono obbligata a dare questa notizia perché a breve il castello Alfonsino sarà finalmente fruibile l'associazione si occuperà anche di del castello Alfonsino grazie all'impegno della soprintendenza nella persona del soprintendente e all'architetto Maria Piccarreta che intende restituire alla cittadinanza questo bene prezioso della città di Brindisi quindi mi auguro che si possa dialogare proprio da questo momento. Uno dei primi aspetti importanti della nostra trasmissione di Opietalia Parliamo è stato proprio quello di aver dato delle anteprime importanti troviamo Lega Navale che è d'accordo con l'associazione quindi veramente andiamo tutti verso la stessa direzione sono sicuro che tanto Federalberghi quanto Confindustria siano pronti a partecipare per non parlare ovviamente anche del consorzo albergatore di Caraviglio perché di fronte a delle iniziative del genere non si può che essere veramente pronti ed uniti tutti quanti per un successo futuro. Enzo di Roma stessa domanda che cosa serve realmente per fare questo salto di qualità soprattutto mentale io reputo perché dobbiamo avere veramente dentro di noi la convinzione che serve un approccio differente al turismo al servizio proprio dell'accoglienza. Serve professionalità serve solo esclusivamente professionalità non sono ottimista come Giancarlo perché passa un tempo per per formare se non siamo riusciti in un decennio a formare i nostri i nostri i nostri dipendenti forse ce la facciamo nei prossimi cinque ma saremo sempre troppo lontano quindi dobbiamo accelerare necessariamente i tempi non non probabilmente in questo momento non ci servono soldi ci servono professioni perché soltanto con le professioni riusciremo a portare gli ospiti nelle nostre strutture sul nostro territorio e se riusciamo e se riusciamo a mettere insieme la formazione e la cultura perché la base naturalmente per i nostri ragazzi deve essere quella riusciremo a far centro in un distretto dove magari il 90 per cento dei nuovi addetti alla all'albergazione alla ristorazione all'ospitalità parli almeno l'inglese sarebbe il minimo questo è giusto allora io ringrazio veramente tutti i miei ospiti che vado di nuovo a ringraziarli ringrazio roberto galasso il presidente della lega navale italiana sezione di brindisi per essere stato con noi grazie galasso ringrazio angelo guarini direttore di confindustria brindisi grazie guarini ringrazio giancarlo anzilotti del direttivo di federal berghi brindisi grazie grazie ad anna cinti presidente associazione le colonne arte antiche contemporanea e grazie a enzo di roma anche per averci anche ospitato poi nella sua struttura perché qui stiamo presso il riva marina resort ricordiamo presidente del consorzio albergatore di carovigno permettetemi di ringraziare anche roberta caraniano che è stata la mia compagna di viaggio in questa chiacchierata penso positiva e propositiva soprattutto verso quello che deve essere lo sviluppo di un territorio importante quale brindisi e quale tutta la puglia ringrazio anche particolarmente i nostri media partner ricordo essere stati antenna sud canale 85 e il settimanale lo ionio grazie a tutti appuntamento al prossimo incontro arrivederci a tutti appuntamento al prossimo incontro a tutti appuntamento al prossimo incontro